È stato presentato ufficialmente al Cinema Teatro Artè di Capannori il piano intercomunale del cibo della Piana. Presenti i comuni interessati che oltre a Capannori sono Lucca, Altopascio, Porcari e Villa Basilica. L'intento è quello di creare una politica alimentare condivisa e comune sul territorio, con diversi obiettivi. Il più importante, probabilmente, è quello di evitare lo spreco del cibo, redistribuendo a chi ne ha bisogno quello che non viene consumato. Possiamo strutturare degli incentivi alle aziende che donano il cibo prima che venga sprecato e quindi prima che diventi un rifiuto può essere ancora una risorsa per chi è per quelli che hanno più bisogno. Quindi ci sono delle realtà molto positive sulla Piana di Lucca, delle realtà sociali, partecipative, che già lavorano tanto con persone che hanno bisogno, donando, ricevendo prodotti che possono essere riutilizzati. L'obiettivo nostro è quello di mettere a sistema queste persone, farle conoscere e valorizzare queste buone pratiche. Quindi dal piccolo far diventare questo progetto una cosa strutturale. Il piano intercomunale porterà alla sottoscrizione della carta del cibo e alla creazione di un vero e proprio organismo consigliare che collaborerà con le amministrazioni comunali proponendo progetti in particolare proprio contro lo spreco alimentare.